La notte di domenica 22 settembre a Gassino Torinese, i carabinieri della compagnia di Chivasso hanno arrestato due albanesi di 27 e 36 anni senza fissa dimora per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e per furto aggravato di energia elettrica. I carabinieri sono intervenuti su richieste alle proprietarie di una cascina, attualmente da lui non utilizzata, perché era stata occupata abusivamente da due persone. Giunti sul posto hanno constatato la presenza dei due albanesi che avevano occupato la casa per trasformarla in un magazzino per lo stoccaggio e la distribuzione della droga. Per poter lavorare anche di notte i due trafficanti avevano creato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. La perquisizione ha permesso di recuperare oltre 6 kg di marijuana diversi strumenti per la coltivazione e per lo spaccio. Poco distante dalla casa hanno individuato la piantagione realizzata in una zona boschiva. Grazie a tutti.